Grazie a tutti. E il secondo passo della scrittura si trova nel Libro degli Atti degli Apostoli, capitolo 13, verso 48. Qui è Paolo che parla e i gentili, udendo queste cose, si rallegravano e glorificavano la parola di Dio. E tutti quelli che erano ordinati a vita eterna credettero. Dunque, questo è ciò di cui si tratta ancora oggi. Loro glorificano la parola di Dio. E ci sono molte chiese al giorno d'oggi che dicono gloria a Dio, ma che trascurano e mostrano di non avere rispetto verso la parola di Dio. Ora, fratello Franchi, vuoi per favore dirci quanto sia importante glorificare la parola di Dio e credere come Dio ha detto, come ha detto la scrittura? Questo l'ho detto molte volte, cari fratelli e sorelle in Cristo. Un vero uomo di Dio rispetta ogni parola di Dio allo stesso modo come se il Signore Dio stesse là e parlasse a Lui. Se non avete il diretto rispetto verso ogni parola di Dio, non riceverete mai la rivelazione ad essa. Così tutto inizia con il vero timore. Non soltanto timore, ma il rispetto. Il rispetto verso Dio e verso la Sua parola. E questo include che nessun passo della scrittura è soggetto ad alcuna interpretazione privata. Dio fa delle promesse e poi adempie ciò che ha promesso. L'odia al Signore. È una risposta così chiara. Ed anche in Giovanni capitolo 7. Giovanni capitolo 7. Dove Gesù dice Chi crede in me, come ha detto la scrittura. Giovanni capitolo 7. Verso 38. Chi crede in me, come ha detto la scrittura, fiumi d'acqua viva sgorgeranno dal suo seno. Sì, con questo, molto chiaramente ogni cosa che è stata scritta nell'Antico Testamento è molto importante conoscerla. Se leggete il termine scrittura nel Nuovo Testamento, il Nuovo Testamento stava per essere scritto, ma l'Antico Testamento era già stato scritto. Così, quando il nostro Signore ha detto Chi crede in me, come ha detto la scrittura, Egli si riferiva soltanto all'Antico Testamento, perché l'Antico Testamento mostra ciò che sarebbe accaduto nel suo piano di salvezza e il Nuovo Testamento conferma ciò che Egli ha promesso e conferma ciò che in realtà è accaduto. Così, l'Antico e il Nuovo Testamento vanno armoniosamente insieme. Lode al Signore. Ora, fratello Frank, di fronte a questa grande confusione nel cristianesimo, come può una persona essere certa di avere realmente incontrato il Signore Gesù della Bibbia? Perché, come anche mostra Paolo, c'erano molti Gesù che vengono predicati, c'erano molte dottrine demoniache che vengono presentate nel nome del cristianesimo come può una persona essere certa di aver incontrato il vero Signore Gesù Cristo della Bibbia? Prima di tutto, cari fratelli e sorelle, voi non potete entrare semplicemente nel Regno di Dio e dire buongiorno Signore, ora farò questo o farò quello. Ogni ministero collegato al piano di salvezza, un uomo chiamato per un tale ministero riceverà delle istruzioni dirette riguarda ciò che il Signore vuole che egli faccia, come Noè. Egli ricevette precise istruzioni in merito a quanto grande, piccola, larga, ogni cosa nell'arca doveva essere costruita. Mosè ricevette tutte le istruzioni riguardo a tutto ciò che concerneva il santuario, tutto ciò che doveva essere fatto. E se leggete in merito al profeta Malachia, c'è una promessa che Dio avrebbe mandato qualcuno, ma colui che Dio ha poi mandato era stato divinamente designato. Tuttavia, ancora un passo alla scrittura al riguardo è in Primo Re, capitoli 17 e 18. Elia fece ogni cosa secondo la parola. Il Signore gli aveva parlato. Così, in primo luogo, dovete ricevere un incarico diretto da parte del Signore. E cari, io non sono qui per dare la mia testimonianza, ma questo è vero come Dio vive. Quando il Signore mi ha chiamato il lunedì del 2 aprile 1962, ed egli mi ha sempre parlato in lingua tedesca. Tuttavia mi disse queste parole. Mio servitore, il tuo tempo per questa città in breve sarà terminato. Io ti manderò in altre città a predicare la mia parola. E, come sapete, di colpo mi sono ritrovato sul pavimento sotto l'impatto di quella voce. Ma quando sono ritornato in me e mi sono alzato in piedi, ho guardato di nuovo verso la finestra e ho detto queste parole. Caro Signore, loro non mi ascolteranno. Hanno tutto in abbondanza. Non sono pronti ad ascoltare. Proprio allora il Signore ha parlato la seconda volta. Mio servitore, il tempo verrà in cui ti ascolteranno. In magazzina del cibo, perché sta per venire una grande carestia. Allora tu starai in mezzo alle persone per distribuire il cibo. Voi conoscete la mia testimonianza? E siccome avevo frainteso, voi conoscete la Germania e la nostra storia, nel 1960 e nel 1961 c'erano molti problemi. La crisi di Cuba, la crisi della Germania, il muro di Berlino fu costruito. Noi tutti eravamo sotto tensione nell'attesa di sapere ciò che sarebbe accaduto dopo. Ed abbiamo immagazzinato degli alimenti naturali, ma non venne alcuna carestia. Così io ho preso l'aereo per andare a vedere il fratello Branham e gli disse Fratello Frank, tu hai frainteso. Hai pensato che sarebbe venuta una carestia naturale e hai immagazzinato del cibo naturale. Ma Dio manderà una fame di ascoltare le sue parole. E il cibo che devi immagazzinare è la parola promessa di Dio per questo giorno che si trova nelle predicazioni che vengono registrate. Io non vi racconto storie, vi dico la verità. Vi dico la verità, ma le ultime due cose che il Signore mi ha detto il 2 aprile 1962 sono state, mio servitore, non pubblicare un libro di cantici perché è il segno di una denominazione. E l'ultima cosa che il Signore mi ha detto è stata non stabilire chiese locali. Io posso soltanto andare e venire, ma voi siete qui e siete responsabili delle chiese locali. Io semplicemente vado e vengo, vado e vengo, condividendo la vera parola di Dio con tutta la terra. Spero di aver reso chiaro ciò. Grazie. Lodi al Signore. Fratello Frank, noi abbiamo pure, come tu sai molto bene, molte chiese che si radunano insieme. Loro tutte affermano di essere unite tramite Gesù Cristo e che loro tutte appartengono alla sposa. Tuttavia credono differenti dottrine e si contraddicono le une con le altre e si uniscono anche insieme. Per così dire, per formare il corpo di Cristo. Qual è il tuo punto di vista o cosa dice a riguardo la parola di Dio? Come ho pure detto un certo numero di volte, c'è una sola vera chiesa del Dio vivente. C'è una sola sposa di Cristo. Come Eva fu tirata fuori da Adamo e riportata a lui e presentata a lui, così il fianco del nostro Signore fu aperto alla croce del Calvario e la redenzione ha avuto luogo tramite il sangue. E la sposa di Cristo è redenta tramite il sangue. Ed è l'Apostolo Paolo che riferisce in Efesini, capitolo 5, carne della sua carne e ossa delle sue ossa. La stessa parola, noi siamo figli e figlie di Dio nati dallo stesso Spirito Santo. E come Cristo, il nostro Signore, il Salvatore, era la semenza promessa, così noi siamo la semenza di Dio. E voi potete leggerlo tre volte nel Salmo 22, nel Salmo 89, in Isaia, capitolo 53. E la sua progenie lo servirà, così in realtà c'è una sola sposa, una sola semenza, una sola parola promessa di Dio per questo giorno. Dunque, ci sono molte direzioni, ma non nel messaggio. Tutte le differenti direzioni sono all'esterno del messaggio. All'interno del messaggio, e ognuno dovrebbe sapere questo, assolutamente significa essere nella parola di Dio. Nessuna interpretazione, e per la grazia di Dio, fino a questo giorno, non ho mai dato una sola interpretazione. Ho predicato soltanto la parola di Dio. Come mi è stato detto, e secondariamente, ho tradotto tutte le predicazioni del fratello Branham. Ed ognuno può leggere questi sermoni e rallegrarsi del cibo spirituale. Lodi al Signore. Ora, in collegamento a ciò, fratello Franche, anche il fratello Branham ci ha presentato il peccato volontario che l'uomo può commettere contro la parola di Dio. I peccati della carne provengono da ciò. Sai, molte persone si concentrano su ciò, tuttavia queste cose volontarie non si dovrebbe mettere fuori posto la parola, non si dovrebbe interpretare la parola, né dare interpretazioni private alla parola. Tuttavia, molte persone non sembrano prestare molta attenzione a queste cose. Potreste parlare un po' su ciò? Beh, non sono qui per giudicare ciò che fanno altri. E non possiamo prevenirlo, non possiamo prevenirlo, ma ciò mostra direttamente se qualcuno è chiamato dal Signore al Ministero. Se lo è, condividerà soltanto la parola di Dio, non spiegherà le scritture, non spiegherà ciò che il fratello Branham ha detto, egli lascerà semplicemente tutte le cose nel modo in cui sono e lascerà a Dio di rivelarlo. Qui potrei dire molte cose, perché sono consapevole delle cose che accadono adesso. Il profeta ha detto, il profeta ha detto, il profeta ha detto, ma cosa dice la scrittura? E ci sono così tanti fraintendimenti, ma non nel corpo di Cristo, non nella parola di Dio. Ognuno che è nella parola di Dio è nella volontà di Dio. Non fraintenderà mai ciò che ha detto il profeta. Non fraintenderà ciò che ha detto il nostro Signore, ma avrà il giusto intendimento tramite la grazia di Dio. Lode al Signore. Ora, dai brani della scrittura letti come introduzione, specialmente Atti, capitolo 13, verso 48, e i gentili udendo queste cose si rallegravano e glorificavano la parola di Dio, e tutti quelli che erano ordinati a vita eterna credettero. Fratello Frank, potresti spiegarci un po' questo? Tutti quelli che erano ordinati a vita eterna credettero. Sì. Intende dire ciò che dice e dice ciò che intende dire. Tutti quelli che erano ordinati a vita eterna credettero. Loro hanno rispettato la parola di Dio. E come comprendiamo, in primo luogo la predicazione è andata ai giudei. E il nostro Signore aveva persino detto, non andate dai gentili, io vi mando soltanto alle pecore perdute della casa di Israele. Ma quando la scrittura fu adempiuta che il nostro Signore sarebbe divenuto una luce per i gentili, Isaia capitolo 42, Isaia capitolo 49, poi Paolo ha usato questo passo della scrittura e ha detto Ora ci volgiamo da voi giudei ai gentili perché è scritto. Egli basò la sua decisione sulla parola promessa di Dio dal profeta Isaia. Così tutti coloro che erano ordinati dai giudei o dai gentili hanno creduto la parola di Dio. Che ne di qualcuno che afferma di essere un eletto e che rimane nell'incredulità? Questo è impossibile. Abramo credette Dio e ciò gli fu messo in conto di giustizia. È assolutamente impossibile di essere nell'incredulità e nella disubbidienza. Se siete realmente un figlio di Dio sarete nell'obbedienza e rispetterete la parola di Dio e anche crederete veramente ogni parola di Dio. Perché il nostro Signore ha detto voi conoscerete la verità ed egli ha detto la mia parola è la verità e la verità vi farà liberi. Non è il profeta, non è l'insegnante che vi rende liberi. E' il Signore che ha mandato la sua parola e nel momento in cui credete la sua parola la potenza di Dio viene manifestata con voi e in voi e voi vedete il risultato di ciò che Dio ha fatto perché voi credete. Lode al Signore. Ora infine fratello Franchi, puoi dirci per favore cosa c'è che non va con le denominazioni? Cosa sono queste denominazioni? Beh, come ho detto all'inizio nella mia testimonianza, quando il Signore direttamente mi ha comandato di non stabilire chiese locali e di non pubblicare un libro di cantici, noi tutti sappiamo che tutte le denominazioni, luterani, battisti, pentecostali, metodisti, esercito della salvezza, tutti hanno il loro libro di cantici, sono conosciuti dai loro libri di cantici e da ciò che credono. Adesso anche nel messaggio loro si uniscono gli uni con gli altri e hanno dei libri, anche libri di cantici, ma ogni chiesa locale deve decidere da sé. Noi non siamo uniti in una denominazione perché il fratello Brano ha detto che da questo risveglio non uscirà una denominazione ma la sposa di Cristo sarà chiamata fuori e sarà preparata per il ritorno di Cristo. Così non c'è un quartier generale in questo messaggio dell'ora. I quartier generali sono soltanto nelle denominazioni. Il nostro quartier generale è nel cielo, è nel cielo. Anche il centro missionario di Krefeld non è un quartier generale. Noi serviamo semplicemente il Signore secondo l'incarico che Egli ci ha dato. Dio vi benedica, lodi al Signore. Ora, fratello Frank, parlando di questo messaggio e della confusione che tristemente c'è anche nel messaggio, in quale gruppo tu sei o quale gruppo sostieni perché quello che accade nelle denominazioni accade anche nel messaggio. Le persone credono in differenti dottrine e si radunano credendo che saranno portati nello stesso cielo aspettando di essere col Signore Gesù e tuttavia qui si contraddicono e si combattono gli uni gli altri. cosa dovrei dire? E' una tragedia e il mio cuore è a pezzi ogni giorno nel ricevere così tante e-mail da tutta la Terra. sempre delle persone appaiono con delle nuove rivelazioni in merito ai tuoni e questo e quello e chiedono a me. Ma questa confusione, lo ripeto, non si trova nel messaggio ma è causata da fratelli che pensano di avere un ministero ma che non sono stati direttamente chiamati dal Signore. Loro soltanto pensano di dover far questo ma qui c'è anche un vero segno. Se qualcuno in questo tempo è chiamato al ministero come nei giorni di Paolo non sarà contro Paolo ma sarà con Paolo non sarà contro l'Apostolo Giovanni come per esempio Diotrefe voi conoscete Diotrefe nella terza epistola di Giovanni egli era un uomo nella chiesa locale e non riceveva l'uomo di Dio Giovanni il grande apostolo che è andato sull'isola di Patmo e ha ricevuto tutte le rivelazioni Diotrefe non riceveva neanche lui dunque di cosa si trattava? Ebbene chi era lui? Egli non era stato collocato da Dio si era collocato da sé e ha pensato io sono il conduttore qui e non ho bisogno di ricevere questo vero uomo di Dio allo stesso modo accade oggi io non parlo di me stesso ma se è vero ed è vero che il Signore mi ha dato un ministero per il corpo di Cristo per portare il vero messaggio di Dio fino all'estremità della terra ogni fratello che in questo messaggio non sarà contro di me non sarà contro il fratello Frank ma si rallegrerà nel Signore parteciperà nel ministero che è in atto adesso è molto semplice molto semplice sì l'odi al Signore ora ci sono molte persone che dubitano persino del tuo collegamento con il fratello Branham ma noi sappiamo che ciò è falso noi sappiamo che è falso perché per la grazia di Dio noi crediamo anche in questo messaggio dell'ora e ringraziamo Dio per il tuo ministero ora il fratello Branham credo che mentre eri in Svizzera egli voleva ritornare in Africa e poi il Signore gli mostrò una grande visione ed egli vide una grande aquila un'aquila tedesca che volava attraverso l'Africa e noi non vediamo alcun altro cittadino tedesco che si adatti a ciò o che noi possiamo indicare e dire veramente è quest'uomo sei tu quell'aquila tedesca? oh fratello mio io sono tedesco di nazionalità ma non sono neanche nato in Germania tuttavia ad ogni modo per la grazia di Dio mentre il fratello Branham era a Zurigo Svizzera nel giugno 1955 il Signore gli mostrò l'aquila tedesca che volava attraverso l'Africa dunque il Signore ha aperto il mio cuore e ha aperto le porte per l'Africa e non c'è un altro continente sulla terra come il continente africano dove Dio ha chiamato e scelto migliaia e migliaia di persone lo ripeto in nessun altro continente Dio ha chiamato così tante persone perché era il desiderio del fratello Branham di ritornare in Africa e di riportare queste persone al Signore ed egli non ha più potuto ritornarvi nel suo passaporto anche nel 1965 fu messo un timbro nel passaporto che indicava che egli non poteva partecipare a riunioni religiose ma soltanto ad un viaggio di caccia ma quando il tempo è giunto Dio ha usato me per andare in Africa per andare e condividere la parola con milioni di persone in Africa io condiviso la parola di Dio con milioni di persone non soltanto con cindriare in migliaia ma con milioni di persone alla raccolta è grande Dio benedica il continente africano Amen ora fratello Franco giusto un'osservazione c'è un movimento che ha luogo nelle chiese pentecostali sai non molto tempo fa era sotto il nome di benedizione di Toronto le persone ridevano e ciò veniva chiamata unzione di risate cadevano all'indietro e tutte queste cose cosa dice la parola di Dio riguardo a queste cose? beh questo va avanti da molti molti anni non c'è nulla di nuovo Pensacola e Toronto e tutte queste speciali cose ma cosa abbiamo nelle scritture? sta scritto in quel giorno molti verranno da me e diranno Signore Signore non abbiamo noi profetizzato non abbiamo fatto tutte queste grandi cose e il Signore dirà io non vi conosco dipartitevi da me voi tutti operatori di iniquità ci sono differenti cose una è l'unzione che viene come la pioggia e il fratello Brana vide le due cose egli vide il campo di grano e vide anche le zizzanie che crescevano nello stesso campo ed egli vide entrambi che anelavano la pioggia e poi vennero le nuvole è venuta la pioggia ed entrambi il grano e le zizzanie si sono rallegrate dicendo alleluia l'odia al Signore è la semenza è la semenza che conta e noi dobbiamo essere la vera semenza della parola di Dio in questo tempo non soltanto l'unzione che viene in generale come la pioggia ma i veri figli e le figlie di Dio ricevono lo Spirito Santo e sono condotti non soltanto unti ma sono condotti dallo Spirito Santo nella parola di Dio che n'è del cadere all'indietro di ridere sai diventa quasi come isterismo può lo Spirito di Dio fare simili cose ciò viene fatto dall'uomo ogni persona nei giorni della Bibbia cadeva sulla faccia non c'è nessuno neanche uno nei giorni della Bibbia che è caduto all'indietro davanti a Dio ognuno è caduto sulla sua faccia e così una vera esperienza con il Signore non è tramite qualcuno che spinge delle persone io sono stato in una di queste riunioni in realtà in tre riunioni complessivamente a Taipei ad Atlanta e in una da qualche parte nelle Filippine giusto per vedere ciò che realmente accadeva e loro spingevano spingevano le persone e dietro queste persone c'era qualcuno che le afferrava e le distendeva a terra è un'imitazione non ha nulla a che fare con Dio è qualcosa fatto dall'uomo così noi ritorniamo alla parola e alle originali benedizioni di Dio in questo tempo l'odi al Signore ora ci sono milioni di credenti e alcuni di loro si definiscono anche cristiani nati di nuovo ma non sono mai stati battezzati biblicamente nell'acqua e altri ancora affermano persino che il battesimo in acqua non è necessario che ora viviamo nella dispensazione dello Spirito Santo e l'unica cosa che fanno i predicatori è di pregare per loro pregano per i peccatori e poi dicono dal pulpito ora quale risultato della preghiera voi siete nati di nuovo è questo vero biblicamente parlando no di nuovo ci sono le scritture e noi dobbiamo leggerle una cosa è ricevere la salvezza credendo in Gesù Cristo che egli ci ha redenti e ci ha riconciliati con Dio ma è un'altra cosa nascere di nuovo e voi potete nascere di nuovo soltanto ricevendo una semenza come nella nascita naturale voi non potete avere una nascita perché piove o perché soffia il vento voi dovete avere un'unione nell'amore dovete avere una semenza e poi il seme spunta e anche la vita ed ecco perché leggete in Giacomo capitolo 1 verso 18 nati di nuovo tramite il seme della parola di Dio e in primo Pietro capitolo 1 verso 23 nati di nuovo tramite il seme della parola di Dio in primo luogo la semenza deve essere collocata nella nostra anima e poi lo Spirito Santo viene sopra la semenza per manifestare la nuova vita come con Cristo quando l'angelo Gabriele diede la promessa a Maria soltanto allora la semenza la semenza la semenza promessa divenne carne la parola fu fatta carne nel momento in cui Maria ricevette quella promessa lo Spirito Santo venne sopra di lei e il figlio di Dio nacque nel momento in cui riceviamo la parola della promessa lo Spirito Santo viene sopra di noi e crea la nuova vita è in noi e noi nasciamo di nuovo veri figli e figlie di Dio Amen l'odio al Signore l'odio al Signore cosa accade anche in collegamento con le chiese pentecostali vendono l'olio l'acqua santa sai possiamo quasi vedere come queste chiese ritornano alla loro madre puoi spiegarci questo non abbiamo bisogno di dire molto al riguardo perché nelle recenti settimane abbiamo potuto sapere tramite tutti i notiziari come il Papa ha avuto comunione con i pentecostali in Texas e il signor Copeland e via dicendo anche adesso giusto fuori Napoli il Papa ha visitato una grande chiesa pentecostale chiedendo perdono così questo è il tempo perché adesso abbiamo più di 550 milioni di pentecostali e carismatici così questo è stato l'ultimo movimento e questo ultimo movimento deve ritornare alla chiesa madre ma prima che venga fatto questo processo finale viene data la chiamata fuori voi popolo mio uscite di mezzo a loro e perciò noi non ritorniamo a Roma noi ritorniamo a Gerusalemme agli originali insegnamenti degli apostoli lo stesso fondamento una sola fede un solo signore un solo battesimo lode al signore e abbiamo ancora un'altra domanda in collegamento con il messaggio cos'è il messaggio e qual è lo scopo del messaggio del messaggio dell'ora beh questo l'abbiamo menzionato pure molte molte volte come all'inizio del nuovo testamento Dio confermò la sua parola e la profezia dell'antico testamento divenne realtà Giovanni Battista aveva il messaggio dell'ora egli preparava la via al signore riunendo le persone con il signore nella stessa maniera accade adesso credere la parola di Dio promessa per questo giorno è il vero messaggio dell'ora non si tratta soltanto di Matteo capitolo 24 verso 14 questo Vangelo sarà predicato come testimonianza a tutte le genti e poi verrà la fine ma si tratta anche del mandato diretto io vi mando il profeta Elia prima che venga questo giorno prima che la salvezza sia terminata prima che termini il giorno della grazia io vi mando qualcuno per ricondurre i cuori del popolo di Dio a Dio come nei giorni di Elia e c'è un versetto importante in primo re capitolo 18 verso 37 e il signore volse i cuori indietro a Lui non la testa non la testa molti di coloro che dicono di credere il messaggio sono stolti nella mente no Dio volge i nostri cuori e riconduce i nostri cuori a sé e alla sua parola e credere il messaggio dell'ora voi popolo mio uscite di mezzo a loro e separatevi e poi comprendiamo che Dio è uno Dio è uno in cielo egli è nostro padre sulla terra si è manifestato nel suo genio figlio nella chiesa nello spirito santo e anche il battesimo il signore diede l'incarico di battezzare nel nome prima che io possa battezzare nel nome devo conoscere il nome così qual è il nome in cui Dio stesso si è rivelato è manifestato in quale nome tu lo chiamerai Gesù perché egli salverà il suo popolo dai loro peccati non v'è sotto il cielo alcun altro nome che sia salvato agli uomini per il quale abbiamo ad essere salvati tranne il nome di Gesù Cristo così il nome in cui Dio si è rivelato quale padre figlio e spirito santo è Signore Gesù Cristo ed ogni persona dai giorni di Pentecoste è stata battezzata nel nome del Signore Gesù Cristo questa è la Bibbia questa è la Sacra Scrittura questa è la parola di Dio e perciò il messaggio dell'ora ci riporta agli insegnamenti originali della parola di Dio l'odia il Signore io lo credo fratello Frank il fratello Branham ha fatto pure una dichiarazione al primo Adamo fu data una sposa ma questa sposa si contaminò ed egli disse che l'ultima sposa non si contaminerà le vesti per mezzo delle false dottrine dunque qual è la tua ultima esortazione per tutti coloro che credono nel messaggio e che credono di essere la sposa e tuttavia alcuni di loro hanno già iniziato a contaminare le loro vesti sai tramite falsi insegnamenti che ne hai una parola di esortazione al riguardo anche questo l'abbiamo monzionato molte volte nessuna menzogna proviene dalla verità la verità è sempre stata la verità e per sempre sarà la verità e ovunque il nemico aggiunge toglie o interpreta è una menzogna e sin dall'inizio Satana ha usato ciò che Dio aveva detto ad Adamo e ha dato la sua interpretazione ad Eva e lei credette non ciò che Dio aveva detto ad Adamo ma credette ciò che Satana aveva detto in merito a ciò che Dio aveva detto ad Adamo e soltanto una parola la parola no fu aggiunta e l'intera caduta era già là così noi dobbiamo rispettare la parola di Dio e fratelli io non giudico ma sono responsabile davanti a Dio è impossibile per qualcuno credere i tuoni qui e i tuoni là è il ministero che ritorna è che il Signore è già venuto è che il tempo della grazia è terminato che il seggio di grazia è diventato il seggio del giudizio ci sono così tanti falsi insegnamenti ma non sono nella sposa non sono nella sposa sono all'esterno all'esterno sono all'esterno della parola di Dio sono all'esterno della volontà di Dio e perciò io devo sempre evidenziare che noi dobbiamo riportare tutte le cose nella parola di Dio come il fratello Branham molte volte ha parlato al passato come tutte le profezie sono al passato e se andate nel libro dell'Apocalisse Giovanni vide già la santa città di scendere e tuttavia non è ancora discesa come se avesse visto già tutte queste cose e il fratello Brana parla in tale maniera che se non avete la vera rivelazione voi potreste credere oh il tempo della grazia è terminato il seggio di grazia è diventato il seggio del giudizio ma se ritornate alla parola di Dio voi sapete che fino all'ultimo momento il nostro Signore rimane là e la grazia di Dio sarà con noi finché saremo portati su anche riguardo alla venuta del Signore quando loro dicono che il Signore è venuto nel 1963 perché allora il fratello Brana nel novembre 1965 ha detto saluto tutti quelli che aspettano la venuta del Signore a New York e in tutte le differenti città ci sono così tanti fraintendimenti ma sono all'esterno del messaggio non dentro il messaggio alcuni credono nel Ministero che ritorna che il fede lobreano deve ritornare no 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 credete soltanto ciò che dice la parola di Dio e lasciate tutto il resto a Dio così siccome sono così esplicito e lo devo essere e sono così schietto lo devo essere tutti questi fratelli che insegnano differenti dottrine sono contro di me e un fratello mi ha scritto un'email dicendomi fratello Frank tutti non sono d'accordo gli uni con gli altri ma quando si arriva al punto che sei tu in questione loro tutti ti odiano con odio mortale ma io li amo tutti non amo semplicemente i loro insegnamenti perché non sono biblici ma non ho nulla contro alcun fratello camminerei a piedi se potessi aiutare un fratello sì dico questo per finire soltanto la parola di Dio dimora in eterno e coloro che sono ordinati a vita eterna e coloro che sin dall'inizio sono ordinati ad essere nella sposa staranno nella parola perché la santificazione può aver luogo soltanto se siete nella parola di Dio e anche il suggellamento con lo spirito santo e c'è una differenza fra un'unzione e il suggellamento molti sono unti ma il suggellamento secondo Efesini capitolo 1 verso 13 può aver luogo soltanto dopo che abbiamo ricevuto la parola della verità allora siamo suggellati con lo spirito della promessa dopo aver ricevuto la parola della verità dunque il suggellamento non può aver luogo in tutte queste dottrine e nelle cose che vanno avanti all'esterno del messaggio no indietro alla parola di Dio indietro al Signore Dio vi benedica l'odio al Signore noi siamo stati così benedetti da tutto ciò che è stato detto qui e Dio stesso sono stato realmente benedetto ma c'è ancora un'altra domanda in collegamento con il tuo ministero puoi spiegarci un po' come il Signore ti ha chiamato e anche un'altra domanda hai fatto ogni cosa secondo ciò che Dio ti ha ordinato di fare sì è sempre facile sentire parlare delle cose che Dio ha fatto nel ministero del fratello Brana e non riferirsi alla piccola parte che Dio mi ha concesso di avere in questo ministero ma come è vero che Dio vive il fratello Brana io l'ho incontrato un certo numero di volte come ho detto nelle riunioni è stato un grande privilegio che Dio mi ha dato ho saputo sin dal primo giorno dal primo giorno che questo era un uomo mandato da Dio ma quando l'11 giugno 1958 il fratello Brana mi disse a Dallas Texas alla conferenza della voce della guarigione dopo la nostra conversazione fratello Frank tu ritornerai in Germania con questo messaggio ma la parte più importante è stata nel dicembre 1962 quando egli direttamente mi ha dato spiegazioni riguardo al cibo spirituale e quando egli disse per favore aspetta con la distribuzione del cibo finché avrai ricevuto il resto del cibo e questo è stato nel dicembre 1962 così ho aspettato ho aspettato che il tempo venisse per distribuire il cibo spirituale ma poi cari fratelli e forse ci sono anche delle sorelle qui nel momento in cui William Branham è stato portato nella gloria è stato il 24 dicembre e non lo dimenticherò mai perché è il giorno del mio compleanno è il giorno del mio compleanno ed io chiamo Dio come mio testimone erano all'incirca le 10 meno un quarto di sera orario europeo orario tedesco quando ho visto il fratello Branham salire sopra una nuvola e in quella visione io dissi fratello Branham tu non sei il figlio dell'uomo perché ti vedo salire su questa nuvola e gli indossava un vestito disteso su quella nuvola e saliva lentamente e sapete cos'è accaduto io non avevo sentito parlare del suo incidente vivo in Germania ma poi è stato precisamente il momento in cui il Signore l'ha preso nella gloria e poi l'ho menzionato prima da qualche parte quando ha avuto luogo il funerale l'11 aprile 1966 quando ritornai nella mia stanza ad albergo mi ero appena seduto avevo pianto pianto e pianto e non potevo cantare loro tutti cantavano sol abife sol abife per più di due ore io non potevo cantare io piangevo pregavo dicevo Signore per favore dimmi come può la sposa essere preparata senza questo ministero che tu hai dato al tuo servitore profeta e parlava al Signore così ma quando sono ritornato in albergo mi ero appena seduto e la pace di Dio che sorpassa ogni intendimento ha riempito il mio cuore e questa volta non è stata una voce ma ha parlato nel mio cuore ora il tuo tempo è giunto ora tu porterai questo messaggio fino all'estremità della terra ed io avevo un buon lavoro lavoravo e praticavo allo stesso tempo lavoravo per la Nato per il governo tedesco ma quando sono ritornato ho dato le mie dimissioni e ho iniziato il ministero internazionale ma voi volete conoscere la data la data in cui il Signore mi ha parlato in merito a Matteo capitolo 24 l'ho scritto nella mia Bibbia l'ho scritto nella mia Bibbia è stato la domenica del 19 settembre 1976 ad Edmonton Canada dove stavo con la mia famiglia è il sabato e il fratello Bablitz venne da me loro mandavano pure della letteratura e mi disse quel sabato mattina intorno alle 10 fratello Frank noi troviamo il ministero del fratello Branham nella Bibbia ma per favore dici dove è il tuo ministero nella Bibbia e Dio dissi sta zitto per favore fermati sta zitto per favore per favore fermati pensavo che egli avesse perso la testa ma il mattino seguente chiamo Dio come mio testimone il mattino seguente mi ero già vestito e stavo per prendere la mia Bibbia per leggere quando la voce del Signore mi disse mio servitore io ti ho stabilito secondo Matteo capitolo 24 dal verso 45 al verso 47 per distribuire il cibo che è stato immagazzinato così io faccio questo nel nome del Signore secondo un incarico divino dato dal Signore e confermato dal profeta di Dio William Branham e su tutta la terra è conosciuto che il mio ministero è direttamente collegato al ministero del fratello Branham come nessun altro ministero sulla faccia della terra e tutti coloro che sono ordinati da Dio ad avere parte nel ministero adesso non saranno contro il fratello Branham né contro il fratello Frank ma vedranno che il fratello Branham e il fratello Frank dicono le stesse cose e credono le stesse cose e hanno parte nel condividere la vera parola di Dio Dio vi benedica amén ci sono pure coloro che dicono noi non abbiamo alcun problema con il fratello Frank fin tanto che egli non si ferma di scrivere i suoi libri cosa dici loro forse sai alcuni sono già confusi forse una chiarificazione a parte tua potrebbe anche aiutarli avete già i messaggi in formato libro perché leggere o scrivere altri libri beh ciò va insieme a un ministero ciò va insieme a un ministero se per esempio il fratello Branham ha predicato un sermone ed egli ha predicato 1200 sermoni e talvolta egli ha predicato per due ore e alcune volte per più di tre ore ma alla fine alla fine cari fratelli noi dobbiamo venire al punto e dove il fratello Branham può usare due o tre passi della scrittura io uso 20 o 30 passi della scrittura per mettere ogni cosa proprio con la parola di Dio per far sapere ad ognuno sulla faccia della terra che questa non è qualcosa che si muove nell'aria ma è messa sul fondamento degli apostoli e dei profeti direttamente con la parola di Dio così il mio scopo è di avere persone che comprendano in modo breve la parola di Dio e le numerose cose che il Signore ha rivelato al fratello Branham non c'è un solo punto contro William Branham in tutti i miei scritti neanche uno che il Signore ti benedica che il Signore ti benedica e abbiamo fiducia che è stata una grande benedizione per noi tutti lodi al Signore sì Dio benedica tutti e sia con voi tutti finché ci incontreremo Amen